Domenica 18 ottobre in Puglia sono stati registrati 4.633 test per l'infezione da Covid-19 e sono stati registrati 301 nuovi casi positivi, 75 in provincia di Foggia. A Lucera sale a 46 il numero dei contagiati. Lo ha comunicato Antonio Tutolo che ha spiegato che ai 36 casi già noti si sono aggiunti altri 10 tra sabato e domenica. Purtroppo questi numeri sono solo la punta di un iceberg pertanto prego ognuno di osservare le precauzioni raccomanda l'ex sindaco di Lucera. Nelle altre province i casi registrati domenica sono stati 154 in provincia di Bari, 22 in provincia di Brindisi, 30 in provincia Bat, 7 in ad un residente fuori regione. Si sono registrati tre decessi.